Salve a tutti amici, sono Emiliano Babilonia. Stanno immettendo delle radiofrequenze in gamma a 50 Hz in pressione transcranica su tutte le vittime del controllo neurale e immettono l'arma dal satellite spia che sta a nord Europa puntata in frequenza a pressione transcranica all'interno delle abitazioni che creano destabilizzazioni fisiche e psicologiche. Do un consiglio, usate occhiali polarizzati, usate delle semplici cuffie insonorizzate e prendete una valeriana cromo tutte le sere per 10 giorni. Se vi attaccano con queste frequenze cercate di prendere degli antidolorifici o dei medicinali per le cefalee fortissime e cercate di stare in luoghi aperti, lontano da wireless, elettricità e campi magnetici e vi dovete allontanare dai cellulari perché utilizzano anche i sistemi cellulari per il puntamento con l'arma di energia diretta in trigonometria GPS che viene sparata sul vostro corpo. Sono circa 2-3 giorni che ho ricevuto da una persona molto esperta di queste tecnologie e stiamo facendo una intervista e dal momento che hanno sentito la chiamata hanno incominciato ad attaccarmi con le armi ad energie dirette a frequenze a pressione transcranica in elettroencefalografo satellitare per far sì che io non possa fare questa intervista e questa intervista verrà fatta per aiutare le vittime del controllo mentale, per aiutare le persone che vengono sottoposte a questi trattamenti disumani per rendere una consapevolezza a chi utilizza questi satelliti spia a levare queste frequenze. Un saluto amici di Emiliano Babilonia.